Ma dottor, ma a quanto moda hai il marato del 33, il terminale? Te lo do 2 a 1, è robusto. No, non 2 a 1, ma a me mi serve una cosa più ricca, c'ho 20 euro. Il tossico? Quale? 5 a 1. Certo, sicuro? Muore domani, è giallo come la maglia del brazo. Mi sono piaciuti bene. Marta, adesso mi fai, vai, vai, vai. Non ce la faccio più, non ce la faccio più, ma ne voglio andare. Di che cosa vi lamentate? Voi siete in un posto speciale, a Svella Napoli, dal 1860, le stesse vende. Una garanzia. Noi questa qua, questa è una silinga degli anni 70, con questa silinga, che forse si è bucato il gimiente. Noi abbiamo dei reperti storici. Questo bisturi l'abbiamo usato durante la finale dell'82, quando l'Italia ha vinto il mondiale. Pensate che per festeggiare nell'esultanza tagliare la giugolare è un paziente. Ma non la risale. Ma che c'è da ridere? Questa, questa è una legionella del 42. Questo virus non esiste più, è debellato in Europa e noi ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo ancora. Non è possibile, è un falso. Ma quello è fresco, guarda, quello è ancora buono. Lo vedete che buono? Allora è buono. Allora non ci allamentiamo. Non ci allamentiamo. Basta, non ce la faccio più a vedere questo scempio. Eh, dottor, quella è una cosa, pure la dici. Questo scempio non ce la fa vedere più. Non ci vedo più. Non vedo più niente. Eh, ma adesso il cuore va bene però. E che c'entra, dottor? Eh, occhio, non vede il cuorno d'uole. Ah. Così non vedo lo scempio che sta più sereno, ok? Ma è bene questo fatto che rubavano gli occhi ai cadaveri? E chi ha mai parlato di cadaveri? Ah, ecco, perché dicevo, sui fatti dei cadaveri. Caffè, 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 caffè. Capo, capo. Dite. Tenite le corne. Le corne, ti ero soldi, capite? No, caffè, 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 caffè. Su, mangiate almeno un boccone, vi dovete mettere in forza, buono. Non ho fame, io mi sento depressa, abbandonati, mi sento solo. Che succede? Dottore, è depresso e non vuole mangiare. Ci penso io. Vi sentite solo? Eh, come avete fatto a capirlo? Io ho quello che fa per voi, un momento. Ecco qua. Che cos'è? È un chihuahua. Oh, che bello. Eh, ma questo mi ha anche da attraversare la strada. No, no, questo me lo avevi chiede a camminare sotto, sotto al muro. Questo è un cane cercatore. Ah, è un cane da tartufo? Non, no, da formaggio. Dottore, dottore, ma se questo poi si raccorge che è un topo. Eh, finanziamento, mazzette, appalti, passano due anni, questo muore contento. E voi, c'ha ragione, dottorazzo, dammi cinque, dottorazzo. Dottorazzo.